Per una chiesa in uscita serve un laicato in uscita che alzi lo sguardo ai molti lontani del nostro mondo, alle famiglie in difficoltà e pastori e istituzioni ecclesiastiche che valorizzino l'impegno di laici dal cuore buono e generoso. Così Papa Francesco ha i partecipanti all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per i laici, l'ultima prima dell'accorpamento col Pontificio Consiglio per la Famiglia e l'Accademia per la Vita, nel progetto di riforma della Curia. Il Pontificio ha ricordato che in quasi 50 anni di attività il di Castero, uno dei frutti migliori del Concilio Vaticano II per il Beato Paolo VI che lo istituì, ha risposto alle sfide della nuova stagione aggregativa per associazioni e movimenti laicali, valorizzato il ruolo della donna nella Chiesa e curato l'organizzazione delle giornate mondiali della gioventù. Questo per il mandato ricevuto dal Concilio di spingere i fedeli laici a coinvolgersi sempre più nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Una Chiesa in permanente uscita, comunità evangelizzatrice che arriva agli incroci delle strade per invitare gli esclusi, ha spiegato il Papa, ha bisogno di laici ben formati, animati da una fede schietta e limpida, la cui vita è stata toccata dall'incontro personale e misericordioso con l'amore di Cristo Gesù. Abbiamo bisogno dei laici che rischino, che si sporchino le mani, che non abbiano paura di sbagliare, che vadano avanti. Abbiamo bisogno dei laici con visione di futuro, non chiusi nelle piccolezze della vita. E vengo di dirlo ai giovani, abbiamo bisogno dei laici con il sapore di esperienza della vita, che si animano a sognare. Oggi è il momento che i giovani hanno bisogno dei sogni degli anziani. In questa cultura dello scarto non abituiamoci a scartare gli anziani. Spingemogli loro, spingemogli, perché sognino che, come dice il profeta Gioele, abbiano sogni. Quella capacità di sognare è che ci diano a noi la forza delle nuove visioni apostoliche.